Sempre più in alto quindi, ma gli avvertimenti alla prudenza di Bruno Giorgi, considerati persino eccessivi, data la situazione, si dimostrano tutt'altro che balzani. Alla ventisettesima giornata, a Lappiani è di scena la Spal. E Spal per il padovano vuol dire galluzzo. Pronto, ma c'è un giocatore della Spal che mette i ravotti in area di rigore. Ecco Pezzato che manda il pallone in vantaggio al secondo minuto di gioco. All'ingresso dell'area di rigore della Spal, spostati sulla destra e sarà quindi il padova a battere questo calcio di punizione. Ecco che viene toccato il pallone per Cerilli, Cerilli lo mette in area di rigore, lo tocca di testa e avete Pezzato! Splendido ottavo minuto di gioco, raddoppia ancora Franco Pezzato per il padova con uno splendido colpo di testa. E così, con due reti, Giuseppe Galluzzo, calabrese di Siderno Marina, porta al pareggio la sua squadra e fa imbestialire per la seconda volta i tifosi padovani. Ma le pene purtroppo non sono finite qui. Si avvicina la ventottesima giornata, che vedrà i biancoscudati impegnati a Trieste. I tifosi preparano una trasferta memorabile, seconda per affluenza solamente alla oramai storica partita di Verona. Sono più di 5.000 e lo stadio Grezzar a Valmaura è tutto un brulichio di bandiere biancoscudati. Vi è anche molta speranza, suffragata dal fatto che alla Triestina, quasi promossa con molto anticipo, può andare più che bene anche un pareggio. De Falco evidentemente non la pensa così e mettendo a segno due reti, una delle quali su calcio di rigore, rimanda tutti a casa con le pive nel sacco. Ma quel che è peggio, con Vicenza e Carrarese rilanciate e con un solo punto di svantaggio. Per fortuna, arriva questa volta al momento opportuno la sosta. Il padova vola in Calabria, dove a Cosenza disputerà il torneo anglo-italiano. Qui Bruno Giorgi dimostra tutto il suo valore di uomo e di tecnico. Parla con i giocatori, i quali dal canto loro si comportano da veri professionisti. Analizza i fatti e prepara le contromisure. A Cosenza il padova gioca più che altro per onore di firma e con il pensiero rivolto alla ripresa del campionato. Ventinovesima giornata, a 5 dalla fine, alla Piani arriva il Trento. A Cosenza con Forto, supera la metà campo, ancora con Forto, converge verso il centro, poi dà in avanti per Pezzato. Pezzato scambia ancora con Cerilli, ancora Cerilli che cerca di avanzare, verso l'area di rigore, mette in area di rigore. Bozzi, è anticipato, il pallone è messo fuori ma è recuperato, ancora con Forto, ancora con Forto. Il pallone per Bozzi ed è Rete, il padova è in vantaggio con Rete, con Bozzi. Dopo aver battuto il Trento, viene l'aria sentore che qualche cosa di veramente bello stia per accadere. Ci risiamo però con la scaramanzia. Nessuno, da pilotto al diciottesimo giocatore, vuole incominciare a parlare di Serie B. Domenica andiamo a Mestre, dicono, e lì sarà veramente duro. Trentesima giornata, si gioca Mestre-Padova. Cerilli che è attaccato da Tergo, stompisce il pallo e l'arbitro Luci comanda inesorabilmente il calcio di punizione. Verrà battuto sulla trequarti campo del Mestre e a passerlo sarà Fanesi. Ecco che Fanesi prende il pallone, lo mette sul punto dal quale dovrà essere battuto il calcio di punizione. Poi guarda il piattamento dei compagni in area, prende una leggera rincorsa. Parte in questo momento il tiro, Fanesi in area di rigore, un pallone a filtrare. Cerilli, palla sul sinistro. E Rolotti, tenta Rolotti, rimpallata, Rolotti, Rolotti ha cercato il pallone al 26esimo con Rolotti. Rolotti manda il pallone in battaggio, Pio Mestre, 1-1, 1-3-0, terra linea. I tifosi, protagonisti di un'ennesima grandiosa spedizione, pagano di persona la gioia della vittoria, vittime del vandalismo di pochi idioti. Da giornata è stata veramente trionfale. Le altre non reggono il ritmo e la regolarità del Padova. La vittima più illustre è il Vicenza, che, battuto in casa dalla rondinella, dà un definitivo addio alle residue e speranze di promozione. Il clima che attorni alla squadra è facilmente intuibile, tuttavia il saggio Giorgi, coadiuvato da Pirotto e dai giocatori, raccomanda la calma. Ecco, lo slogan biancoscudato di questi tempi è proprio questo, calma e gesso. Tanto più che alla 31esima giornata arriva la rondinella e non bisogna dimenticare quello che ha combinato la domenica prima a Vicenza. Porto dà per Fanesi, quale avanza? Ecco, Fanesi palla al piede che sta per andare in attacco, scambia con Manzin. Siamo sulla tre quarti della rondinella, Manzin sventaglia sulla sinistra per un inserimento di Donati, riceve Donati, controlla molto bene qua sul fondo, mette in aria a rigore. Bozzi di testa, lette, lette! Siamo al 29esimo minuto di gioco e il Padova raddoppia con una splendida azione di Donati sulla sinistra. E colpo di testa finale di Bozzi. Ecco che adesso è conforto che manovra il pallone all'ingresso della propria area di rigore, poi fa un paio di pirouette su se stesso e lo dà all'indietro per Magliani, il quale lo calcia lungo. Il pallone che sta per arrivare sul cerchio del centrocampo, non può intervenire, Calestro, all'indietro, Ravotte! Ecco Ravotte che conquista il pallone, ancora Ravotte sta per entrare in aria, mette! Rette! Ravotte, 3 a 0! Ravotte ha portato il Padova sul 3 a 0! Oramai è assodato, le altre non reggono il passo. In questa domenica cade in casa anche la Carrarese, messa sotto da Ombrescia che, con l'organico che si ritrova e partito per ritornare prontamente fra i cadetti, a retrocedere in C2 non ci pensa proprio. La vittoria sulla rondinella tuttavia costa molto caro al Padova. Perde definitivamente Cerilli, che così conclude il suo strepitoso campionato con tre domeniche di anticipo. Cavestro subisce la stessa sorte, mentre Manzini e Salvatori se la cavano un po' meglio, ma non tanto da poter giocare la domenica successiva. A Brescia si consuma la terz'ultima giornata di campionato. Quattro punti di vantaggio sono tanti, ma anche le preoccupazioni per questa non certo facile partita. Rientra dopo cinque mesi di assenza Fabrizio De Poli. Siamo giunti nel frattempo al ventisettesimo minuto di gioco, nel corso della ripresa ed è sempre il Brescia in vantaggio per una rete a zero. Ecco che è Conforto che ripropone azione per il Padova, sta premendo il Padova praticamente dall'inizio della ripresa. Ed è Fanesi che dà il pallone sulla sinistra, dove ricevono via D'Rei. Ecco D'Rei che avanza, ancora D'Rei, scambia ancora con Fanesi. Ecco Fanesi che viene attaccato da due giocatori. Si libera di palla, dandola per D'Alea, abimente D'Alea, vede libero, Conforto, Conforti, posizione di tiro, porti in tiro, Conforto, Pogna Mette, apparezzato, 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 dandola, una a Brescia, una a Brescia. Il Padova a Brescia, per qualche minuto, ha quindi gustato il miele della Serie B. Lo abbiamo fatto apposta a pareggiare, dice Pilotto. Così la festa la facciamo a Lappiani, assieme a tutti i nostri tifosi. Con tutta probabilità, per il buon presidente, questa frase è stato un modo come un altro per scaricare la tensione nervosa accumulata e non solo in questa ultima partita. Però il destino, che gran parte deve avere anche nel gioco del calcio, ha voluto proprio così. Da tempo gli innamorati di questa squadra sapevano della promozione. L'unico ostacolo, ora, è per gli scettici, la matematica. Per la Serie B manca un punto e a darcelo dovrà essere proprio quel Parma, che quattro mesi prima, con una poderosa spallata, aveva bruscamente rinchiuso in faccia ai biancoscudati il portone dorato della Serie B. Vi lascio immaginare che tipo di emozioni e di sensazioni sta per attraversare lo stadio a piani. Tutti aspettano il triplice fischio dell'arbitro. Ci auguriamo che tutti seguano i consigli che sono stati dati prima della partita, di non invadere il terreno di gioco, perché sarebbe bello poter festeggiare tutti assieme i giocatori del Padova. Ecco che si sta facendo un melina sul cerchio del centrocampo. 44 minuti e 38 secondi, la partita è praticamente finita e il Padova è praticamente, matematicamente in Serie B. Io sto osservando la panchina del Padova, c'è il presidente piloto teso come un violino, finito, siamo in Serie B. Ed ecco che la banda ha fatto il suo ingresso qui allo stadio a piani. E' difficile anche per me, e vi prego di scusarmi, mantenere la calma, la commozione mi sta prendendo la mano. Spero di riuscire ad arrivare alla fine, perché avrei delle cose importanti da dire, soprattutto da ricordare. In questo momento di gioia, di gioia per tutti, per una intera città che aspettava, ripeto, da 14 anni in questo momento, vorremmo ricordare gli artefici di questa impresa che resterà certamente memorabile negli annali della società del Padova Calcio, ma anche nella memoria di tutti i veri sportivi, i veri tifosi. I portieri, vi do l'organico di questa formazione, di questa squadra che ha raggiunto la promozione di Serie B. I portieri Claudio Maiani, Roberto Renzi e Adriano Bardin. Anche se quest'ultimo, più che giocare, si è occupato della preparazione, cosa assai importante, dei due titolari. I difensori, Saverio Albi, Toni Favaro, Fabrizio Salvatori, Pasquale Fanesi, Cornelio Donati, Fulvio Fellet. I centrocampisti, Emilio Dare, Franco Cerilli, Livio Manzin, Franco Conforto, Renato Meneghetti. Le punte, Franco Pezzato, Antonio Ravot, Enzo Bozzi, Nicola Cavestro e Alberto Dacroce. L'allenatore, signor Bruno Giorgi, il presidente, Antonino Ivo Pilotto, il direttore sportivo Enrico Alberti, lo staff medico con i dottori Scutari e Rigo e il massaggiatore Rino Baron. Sono questi i principali protagonisti di questa meravigliosa avventura bianco scudata, conclusasi con la promozione in Serie B. A tutti questi si aggiungono i tanti, tantissimi, migliaia, non sappiamo quanti sono, 26.000 erano questi di questo pomeriggio. Dicevo, i tifosi che hanno seguito instaccabilmente questa squadra, l'hanno seguita, hanno anche criticata, vorrei dire giustamente, fa parte del gioco, fa parte delle cose, bisogna accettare anche questo. Tutti lo hanno accettato, convinti come erano di poter raggiungere un obiettivo che mancava alla città di Padova da 14 anni. Il Padova è quindi in Serie B e mai, consentitemi di dire, ho fatto un annuncio che mi rende tanta e tanta gioia come in questo momento. Allora, Presidente Pilotto, finalmente possiamo dire che siamo in Serie B. In quattro stagioni, due promozioni, una Coppa Italia. Dove vuole arrivare questo Padova? Ma, diciamo, tutto dipenderà dai prossimi futuri. Intanto, guardiamoci questa vittoria che la dedico, principalmente, a mio papà, che mi è morto in un campo di calcio e forse, diciamo, grosso merito di questa Serie B, penso che sia suo. E lo dedico anche a tutti i nostri tifosi, a tutti quelli che hanno cercato di aiutarmi, in momenti anche difficili. E chiedo scusa a qualcuno, se forse da parte mia non sono stato così, diciamo, semplice in certe circostanze, oserei dire, però io avevo solo l'intento di portare questo Padova in Serie B dentro di me. e fortunatamente ci siamo arrivati, dunque in merito va a tutti chi ha cercato di aiutare, dal Presidente, ai collaboratori e a tutti chi è stato attorno alla società. Allora, Bruno Giorgi, che tipo di emozioni le ha dato questa rispetto alle altre? E c'è una differenza? E se c'è, per quale motivo? Ma io credo che le difficoltà che può trovare un allenatore a Padova, credo, possono essere parecchie, perché 14 anni di attesa creano moralmente qualcosa di ingolfato a livello del pubblico. è il pubblico che sempre partecipe e lotta, però vuol vedere vincere. Non ce la faceva più a stare in un ambito che non riteneva più suo. Quindi, ecco, moralmente io ho cercato di comprendere il problema per quello che era, cercare di staccare il discorso squadra nei momenti in cui abbiamo avuto delle defiance, delle piccole difficoltà. E credo che sia stata una componente tecnico-umana che abbia avuto un valore, perché i nostri giovanotti sono stati talmente in gamba nel potersi isolare nel gruppo e poi dando testimonianza sul campo non sempre. È evidente che le difficoltà oggettive di questo campionato a volte ci hanno fatto pensare di non essere prototipi di una grossa situazione, però è altrettanto vero che nella forza di un convincimento, di una grossa volontà, questa squadra credo abbia dato dei punti a tutti. Abbiamo tirato via squadre di tipo tecnico come Vicenza, come Spal, come Brescia, come Modena e squadre di tipo fisico come Carrarese e come Rimini. Quindi vuol dire che l'equilibrio c'era e io sinceramente ci ho sempre creduto. E mi pare allora di capire concludendo che da un punto di vista di emozioni e soprattutto di soddisfazioni per il suo lavoro, queste di Padova si possono dire le maggiori che lei abbia conseguito fino a questo momento. Dico di sì, Padova mi ha dato oggi una grande soddisfazione. Vedere un pubblico così mi ricorda quando venni con il Modena dove c'erano 22.000 persone e da lì ho detto guarda che è una cosa magnifica. Oggi ci si ritrova festanti magari anche in numero superiore con una promozione in tasca. È il massimo che un allenatore può ottenere e direi che sono estremamente felice per Padova Sportiva e anche una piccola rivalza in confronto di un qualche cosa che è andato storto in passato. Allora Franco Pezzato, quattro stagioni al Padova ed è sempre stato un uomo leader di questa squadra. Cosa si prova alla... In realtà di 36 anni. Ma no, ma no, ma perché per un calciatore, per un impiegato, 36 anni, si è piena di gioventù. Per un calciatore si comincia a parlare di pre-pensionamento. Per la verità di Franco Pezzato si parlava di pre-pensionamento già quando venne a Padova a 32 anni. Invece si è dimostrato un leader di questa squadra ed è stato quello che ha siglato il gol della Serie B. Cosa si prova a 36 anni a portare in porto un'avventura come questa? Beh, prima di tutto ti ringrazio delle belle parole perché effettivamente a questa età non ce ne sono tanti giocatori ancora dei leader, appunto come hai detto a te. Io è chiaro sono stato un po' facilitato da una squadra direi seria perché abbiamo fatto un campionato direi sempre in umiltà finché appunto oggi abbiamo assaporato questa Serie B. Appunto io ringrazio anche i miei compagni che mi hanno dato la possibilità di essere un leader però nello stesso tempo penso che anche loro siano dei leader. Gianadolfo Trivellato, capo dei servizi sportivi del mattino di Padova. Che cosa vuol dire per la città di Padova questa promozione in Serie B e in questo momento e soprattutto in prospettiva futura? Qual è stata da un punto di vista tecnico la chiave che ha portato il Padova ad acquisire questa promozione? Direi che questa giornata, questo meraviglioso pomeriggio così ricco di sole e anche di passione popolare è il coronamento di un lungo cammino che è incominciato 4 anni fa, anzi 5 anni fa quando la squadra, la società, l'ambiente erano praticamente distrutti, venivano da un'esperienza piuttosto grigia eppure si è trovata la forza, si è trovata la maniera di cementare di nuovo gli entusiasmi la voglia di credere nel calcio e di credere soprattutto nella bandiera del Padova. Sono stati 5 anni difficilissimi, pieni di ostacoli ma anche di delusioni non dimentichiamo lo spareggio di Verona, la partita con il Trento non dimentichiamo tanti altri momenti difficili ebbene oggi c'è il coronamento di questo sogno, c'è questo ritorno in serie B dopo 14 anni di amarezza e di delusione è una maniera di riagganciare il presente al passato un passato che è ricco di gloria, di tradizione e che oggi improvvisamente abbiamo tutti riscoperto non avevamo dimenticato ma abbiamo riscoperto il gusto di quella antica tradizione quindi oggi si apre finalmente il capitolo che non è nuovo è un capitolo che benissimo si adatta alla bandiera del Padova, alla sua tradizione dobbiamo cercare di non guastare questa festa e soprattutto di avviarci a un futuro che sia come una volta pieno di soddisfazione dal punto di vista tecnico, cosa vuole dire questa vittoria? beh, forse non è questo il momento migliore per parlare con accenti tattici e tecnici comunque vorrei dire che al di là delle qualità dei giocatori al di là delle qualità strettamente tecniche di Giorgi e di tutto l'ambiente ha vinto il cuore del Padova ha vinto soprattutto questo grande equilibrio che i giocatori, allenatori e dirigenti sono riusciti a cementare attorno alla squadra e insieme all'ambiente ha vinto il pubblico, ha vinto il grande carattere torno a ripetere, il cuore del Padova è con questo spirito che bisogna guardare al futuro per cercare, se possibile, di andare ancora avanti finalmente è serie B ora se ne può parlare senza correre il rischio di vedersi esorcizzati 14 anni dopo il Padova ritorna in alto in un posto nei valori del calcio italiano che tutti dicono gli compete il 1983 è anche l'anno del genetiliaco molto probabilmente se non vi fosse stata questa meravigliosa avventura nessuno se ne sarebbe ricordato così invece è proprio il caso di dire la vita comincia a 70 anni auguri caro vecchio Padova e cento di questi giorni grazie a tutti per entrare in area, spostato sulla sinistra, ancora Depoli, tiro Rete, Rete, ha segnato il pennezzo per Panesi, per Nese, tiro Rete, Rete ha segnato il pennezzo Sopozzi, tiro a Rete Rete, la vadova, un pancaccio ancora il pallone che passa un calcio d'acqua ecco un po' forte, ha metto un pallone in centro salta Rete, ha segnato il pennezzo con Panesi che entra in area di gore tiro e Rete di pennezzo la pretra in area da notte, mette in area di rigore esce, il potere, palla gooo, ha segnato Donati Rete, tocco di testo, Rete, ma l'arbitro Rete, 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 si Trestro ancora peccato, mette in area di rigore ecco il pallone, Rete manzini che prende una leggera rinforza tiro, Rete, Rete per calcio di testa, corre Rete, tiro e Rete, si tira con moto, rinforzato e lo mette in area di rigore lo tocco di testa e Rete, spezzato e lo tocco di testa il pallone per Bocchi, torna Rete per Rete, rimbannata Rete, Rete si disposta Rete Rete a fare il contegno, faccio il caffè per Bocchi, torna Rete 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 Rete